Credo che per la Polisportiva Albergo Liveto sia il massimo di questa manifestazione, senza togliere niente a nessuno che sia in provincia di Arezzo una delle manifestazioni più grandi che viene fatta quest'anno qui in provincia. Pertanto abbiamo organizzato come Polisportiva, siamo contentissimi. Tra l'altro vedo tantissime famiglie, quindi il clima che mi ricordo lei diceva nelle conferenze stampa, me lo ricordo bene, si è assolutamente realizzato, cioè è Arezzo Wave ma in dimensioni assolutamente diverse rispetto a quelle degli anni precedenti. Sicuramente quello che mi stai dicendo è la verità, perché vediamo tanti bambini, qui sta passando una carrozzina con un bambino, siamo contenti veramente, guarda perché... Il bilancio si tirerà alla fine. Il bilancio brava, si tirerà alla fine, ma all'ultimo sì, è importante il bilancio, però è importante che noi si sia convinti di aver fatto questa organizzazione, di essere riusciti a dare qualcosa al nostro comune di Civitella in Val di Chiana e al nostro paese di albergo Liveto.